Nel secondo turno del campionato italiano di categoria per società, tra le società Bocciopila, US Bassa Valtellina, Talamona, AS Dio, Robi, Caslega, Prefabbricati e Bergamaschi. Per la società Bocciopila, US Bassa Valtellina, dirigente di società Emilio Cerri, commissario tecnico Giorgio Toma, atleta capitano Gusmeroli Pambiano, atleta Barry Fermo, atleta Gavazzi Alberto, atleta Scinetti Roberto, atleta Balsecchi Massimo, per la società aerobica ASD, dirigente Bettineschi Corrado, allenatore Bompanti Mauro, atleta capitano Bonatti Cesare, atleta Angeri Roberto, atleta Pernicei Dino, atleta Beretta Giovanni, atleta Amalfa Antonio, atleta Elytropi Marino, responsabile dell'incontro e sottoscritto Roberto Nespoli. Grazie.